Sfida salvezza tra Olbia e Fermana dove i padroni di casa quart'ultimi in classifica affrontano la squadra di Stefano Protti che da ieri ha un giocatore in più in rosa si tratta di Andrea Gasbarro che oggi partirà chiaramente dalla panchina. L'Olbia occupa il diciassettesimo posto della classifica del girone B con otto punti raccolti in otto gare disputate mentre la Fermana è ferma a due lunghezze di distanza dai Sardi. Intanto prima occasione del match al minuto 12 palla messa dentro da Eleuteri per la testa di Montini che sblocca così il match va a segno per la seconda volta in questa stagione. Il centro avanti classe 92 cross perfetto una parte del numero due della Fermana che continua a insistere nella prima frazione minuto 33 questa volta l'occasione tra i piedi di Pinzi che se la sposta sul destro fa girare alla sinistra di Rinaldi la palla finisce fuori. Questa è l'unica occasione del primo tempo per l'Olbia minuto 42 in spaccata De Sena il pallone viene poi raccolto da Furlanetto secondo tempo senza storia dominio completo dei Sardi che partono subito forte al minuto 54. arriva la prima conclusione nella nella ripresa tentata dal classe 2000 a Nicola Nanni para senza problemi Furlanetto ancora Olbia minuto 64 traversone dalla sinistra e poi conclusione questa volta di Capitan Ragazzo para ancora Furlanetto e poi il pallone viene allontanato dalla difesa della Fermana al minuto 65 sventagliata dentro l'area e questa volta il capitano non sbaglia fa girare il destro all'angolino sinistro fa 1 a 1 torna a segnare al Nespoli il capitano che poi va a prendersi il calore della curva gran gol il terzo stagionale per Daniele Ragazzo continua il dominio dell'Olbia altra conclusione questa volta tentata da Montebugnoli minuto 72 altro episodio nell'area di rigore della Fermana calcio di rigore assegnato dal direttore di gara va dal dischetto Ragazzo che si fa ipnotizzare da Furlanetto che para due volte il punteggio che rimane sull'1 a 1 una gran prestazione fin qui del portiere degli ospiti e poi l'Olbia completa la rimonta col sinistro violento sotto la traversa di Daniele De Sena dunque rimonta completata per i Sardi dopo un secondo tempo dominato infine la squadra di Greco concluderà con questo tiro nello specchio tentato da Nanni dopo quattro sconfitte consecutive l'Olbia torna a vincere e lo fa in casa contro la Fermana finisce 2 a 1 rimonta completata a segno Ragazzo e De Sena finisce la squadra di Grigio